In Ravenna 2019 viene presentata un nuovo progetto di Labelab e dei suoi partner, che è il progetto 4 Italy, nuovi scenari per l'Italia. L'obiettivo di questo progetto è fare i conti con la geografia del lavoro. Sappiamo che l'economia, le trasformazioni in atto molto molto importanti, cambiano tutta la struttura delle città e quindi questo indipendentemente dal fatto di essere al nord e centro-sud Italia. Quindi con questo progetto che consiste in nuove tecniche di visualizzazione per evidenziare le tendenze in atto, si vanno a approfondire quelle che sono per noi le quattro Italie, quindi questi sistemi che devono sicuramente essere più collaborativi in equilibrio, che racchiudono Italia 1, quindi la pubblica amministrazione, Italia 2, tutto il mondo dei servizi pubblici, gli appalti e settori regolamentati, Italia 3, il tessuto delle PMI, professionisti e servizi alle città e Italia 4, che rappresenta il giorni dei singoli territori, delle economie territoriali dove sono concentrate le imprese innovative e le grandi aziende che poi fanno da volano per l'economia locale. Sono settori a più o meno elevato livello di investimento con una caratterizzazione che si differenzia tra il pubblico e il privato e qui a Ravenna 2019 presentiamo il progetto con diverse mappe di visualizzazione che negli anni saranno ulteriormente sviluppate grazie anche all'apporto e contributo di tutti. Il progetto è open e viene sviluppato dall'Abelab in collaborazione con Sister e Geosmart Lab.